Indicazione oroscopo bilancia 2019 di Paolo Fox, ricerca di nuovi equilibri, anno di cambiamenti e trasformazioni I consigli dell'espero di astrologia, previsioni anno nuovo per il segno della bilancia tratti dalla recensione del suo nuovo libro e andate in onda in televisione e dalla radio L'ultima parte dello scorso anno è stata abbastanza incoraggiante e positiva. Infatti l'ottimo aspetto di Giove ti ha consentito di realizzare piccoli o grandi successi personali Hai ultimato un progetto e concludendo un buono affare. In generale la seconda parte dell'anno 2018 è stata piuttosto faticosa Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da continui contrasti. Proprio per questo motivo è molto probabile che possano esserci state delle tensioni in famiglia Genitori e parenti non condividevano alcune tue scelte. Ma soprattutto possono esserci stati costrizioni nell'ambiente lavorativo Qui hai dovuto fare buon viso a cattivo gioco, dimostrarti comprensivo e tollerante anche nei confronti di chi sopporti a fatica Critiche e invidie possono essere state causa di ritardi e di grande stress.C' è da dire che sei un segno che riesce sempre a distinguersi Mantieni il tuo stile anche quando sei sotto pressione. Ed anche per questo motivo sei molto apprezzato e ammirato L'oroscopo bilancia 2019 indica che il prossimo sarà un anno abbastanza significativo C'è da dire che molte scelte potrebbero essere riviste. Alcuni ripensamenti ti costringeranno a disfare quanto fatto in passato Quest'anno metterai in discussione diversi aspetti della tua vita. Purtroppo molto spesso sei condizionato nel fare alcune scelte Prendi le decisioni lasciandoti condizionare dalle aspettative degli altri. Hai paura di rompere equilibri, di deludere le aspettative di chi ti è vicino, oppure di essere giudicato male I più coraggiosi hanno un ascendente forte e rivoluzionario come ad esempio Sagittario o Ariete Sono loro chi riescono a farsi scivolare le cose di dosso, assecondando i propri desideri C'è chi però non riesce ad avere la stessa forza. E presto o tardi, però, determinate situazioni finiranno col diventare intollerabili Chi ha fatto scelte troppo azzardate, durante il 2019 avvertirà il bisogno di rivedere alcune decisioni e magari fare anche qualche passo indietro I prossimi mesi saranno di forza. Non mancheranno momenti di forte tensione, durante i quali sarai costretto a guardare in faccia la realtà in maniera obiettiva e ad agire di conseguenza Oroscopo bilancia 2019 di Paolo Fox, trasformazioni e novità nel lavoro e studio.Quest'anno ci saranno diversi dubbi che condizioneranno le tue scelte Nell'ambito lavorativo ci saranno dei cambiamenti. Alcuni riferimenti possono mutare, come pure diversi aspetti del tuo lavoro Alcune novità destabilizzeranno i nati del segno, che però non devono soccombere a questa condizione di caos Ciò che conta infatti è non perdere di vista i propri obiettivi. Essere determinati e decisi, mantenere i pugni chiusi sulle proprie decisioni aiuterà ad evitare nuovi ripensamenti D'altronde quest'anno Saturno è ancora dissonante. Inevitabilmente ci saranno difficoltà e tensioni che comporteranno non poco stress Secondo l'oroscopo bilancia 2019 i primi tre mesi del nuovo anno saranno piuttosto agitati Ciò perché potresti sentirti costretto, limitato, tanto da sentirti anche sotto pressione Inevitabilmente in questa condizione di insoddisfazione continua ad avere effetti anche sul tuo umore Non saranno pochi coloro i quali perderanno la pazienza e assumeranno un atteggiamento polemico e disfattista Un primo recupero si avrà solamente ad aprile. Come pure durante i mesi che anticipano l'estate potrai apprezzare qualche risultato in più Concludere un affare o ottenere maggiori guadagni ti aiuterà a ritrovare serenità Le scelte anche drastiche che hai fatto durante la prima parte dell'anno producono i loro frutti Alcuni tagli, seppur difficili, si riveleranno positivi.La prima parte dell'anno quindi ti ha visto protagonista di numerosi cambiamenti Puoi aver cambiato gruppo o mansione, oppure esserti messo in gioco in una nuova attività Ciò che conta è aver cambiato, essersi staccato da un contesto lavorativo che negli ultimi mesi si è rivelato difficile e teso Il futuro ti preoccupa, anche perché la fine del 2019 ti vedrà ancora alle prese con la ricerca di un nuovo equilibrio dopo significativi cambiamenti Bisognerà impegnarsi molto, anche per creare condizioni più stabili per il proprio futuro Oroscopo bilancia 2019 di Paolo Fox, bisogno di lealtà in amore.I nati nel segno iniziano l'anno in maniera polemica Ci sono preoccupazioni e difficoltà che riguardano lo studio ed il lavoro.Questa condizione di agitazione agita anche dal punto di vista sentimentale Chi è in coppia può superare questo momento di difficoltà se al proprio fianco ha una persona comprensiva Chi invece è single ritroverà il desiderio di rimettersi in gioco personalmente solamente a primavera In generale la prima parte dell'anno è piuttosto agitata sul piano sentimentale. Possono esserci anche interferenze dal passato, non sempre avrai il coraggio di evitare di assecondare atteggiamenti o pretese che può avanzare un ex Per l'oroscopo bilancia 2019, in amore vanno avanti solamente le relazioni che contano davvero Questo è l'anno in cui i nati sotto il segno della bilancia non saranno più disposti ad accontentarsi Durante la prima parte dell'anno prenderai consapevolezza di ciò che non ti sta più bene Vorrai preservare solamente quei rapporti che meritano di essere vissuti. In estate quindi c'è una condizione più vivace Cresce il bisogno di amare e molti si faranno affascinare dalle novità. Venere entrerà nel tuo segno zodiacale a settembre, chi ha superato il periodo di crisi, può recuperare Ciò che conta è non continuare ad assecondare atteggiamenti sbagliati o tenere per sé critiche e malumori Parlare è chiaro, anche se può dare seguito a qualche polemica, in molti casi aiuta la coppia a fare chiarezza per ripartire più forte di prima Durante gli ultimi mesi dell'anno, chi tiene realmente ad una storia, dovrà impegnarsi per fare chiarezza ed evitare interferenze che possono pregiudicarne il futuro Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like